Benvenuto alla prima lezione del mio corso gratuito di social media marketing a cura di me, il dottor Massimiliano Bellini. Oggi è la prima lezione e come vi avevo anticipato nella lezione 0, quella introduttiva, si parte con una prima parte in cui si parla delle basi del marketing perché secondo me, anche se si parla di social media, si sta pur sempre parlando di marketing e quindi bisogna sapere un po' il contesto in cui ci si trova, come funziona questo mondo, quali sono le leggi che lo governano. Quindi partiamo subito, non perdiamo altro tempo e vediamo proprio l'ABC, le basi del marketing. Ok, nel marketing ci sono tante forze in gioco, ci sei tu con il tuo business al centro. Non ho trovato una parola migliore per definire business perché può essere tante cose diverse. Può essere un'azienda strutturata, può essere una piccola impresa, un piccolo negozio addirittura. Anche in un certo senso il tuo business di libero professionista, uno psicologo, un nutrizionista, un avvocato, ha un suo piccolo business, no? Perché cos'hanno in comune tutte queste cose? Sono delle entità, chiamiamoli così, che si trovano all'interno di un mercato. Dentro questo mercato devono reperire delle risorse, ok? Per reperire delle risorse dal mercato e organizzarle, trasformarle, per poi immettere sul mercato un qualcosa di nuovo, che sia un prodotto o un servizio, da scambiare sul mercato in cambio di denaro, ovviamente. Questo deve farlo nel lungo termine, in modo tale che le entrate che derivano da questa azione nel lungo termine coprano i costi, non solo, ma generino anche profitto, no? Questa è proprio la base dell'economia aziendale, ma è anche la base di come funziona il tuo business, qualsiasi esso sia. Quindi dicevamo, nel mercato ci sono varie forze in gioco, appunto ci sono i fornitori, quelli che ti forniscono i beni, i servizi che tu acquisisci per portare avanti la tua attività. Attenzione però, non si tratta solamente, necessariamente, di prodotti fisici. Il classico esempio sono i bulloni per costruire gli automobili, però ci sono anche i beni immateriali, no? Anche quelli sono risorse. Il know-how, se tu ti fai un corso per imparare un lavoro, ebbè, anche quella è una risorsa che tu acquisisci dall'esterno, ma anche il cosiddetto capitale umano, no? Tu magari acquisisci collaboratori dall'esterno, acquisisci dei dipendenti, quelle sono tutte cose che ti costano, ma che contribuiscono a portare avanti la tua attività e a creare quello che tu metti sul mercato, che si spera abbia un valore sul mercato, che sia un prodotto o che sia un servizio. Ci sono i consumatori, i consumatori finali, ovviamente sono quelli a cui tu ti rivolgi nel tuo mercato, non necessariamente però le persone a cui ti rivolgi sono i consumatori finali, perché c'è anche il caso di business to business, no? Quindi in cui i tuoi clienti sono altri business. Ci sono anche i concorrenti, ovviamente perché quasi sempre, direi nel 99,9% dei casi, entri in un mercato in cui c'erano già altri che stavano facendo la stessa cosa, o comunque stavano proponendo prodotti e servizi simili, o che rispondono alle stesse decidenze, o agli stessi desideri, magari in modo diverso. Poi per alcuni ci sono anche gli azionisti, per le grandi aziende quotate in borsa, e poi purtroppo, lo dico sinceramente, c'è anche lo Stato, che purtroppo per noi che abbiamo una libera attività, una piccola attività, sappiamo che sono più le volte che ci danneggia che quelle che ci aiuta. Questa è la base, è la base di come funziona un mercato. In un mercato funziona un prodotto, un servizio, se c'è un incontro ovviamente fra la domanda e l'offerta. Quindi tu puoi fare tutto il marketing fatto benissimo come ti pare, ma se ciò che offre la tua offerta non incontra una domanda o se la domanda non è abbastanza alta da generarti dei profitti tali da poter andare avanti, mi dispiace, ma non avrai molte chance di sopravvivere con il tuo business. È brutto da dire, ma è così. Ok, abbiamo visto che un business ha diversi cicli, ok? Quello che ho appena detto è il cosiddetto ciclo produttivo, cioè quello in cui l'azienda reperisce dei beni e delle risorse dall'esterno, le incamera, le prende dentro di sé, le riorganizza, le riassembla e poi dà fuori sul mercato un prodotto finito e in camera del denaro con il quale continua a reperire altre risorse e così via. Quindi è un ciclo che si ripete. Questo è uno dei cicli aziendali. Ho messo aziendali tra virgolette perché appunto si applica anche a business che non sono aziende appunto, anche a piccoli negozi, anche a liberi professionisti. C'è poi il ciclo finanziario e poi c'è quello che interessa a noi che è il ciclo del marketing, che anche questo è un ciclo aziendale. Perché? Perché il marketing non è altro che un processo, così fatto a cerchio diciamo, perché è un ciclo, fatto di tre fasi. Il primo è l'analisi di mercato, ok? Quindi è la fase in cui si ripetiscono informazioni, si ripetiscono informazioni sul nostro pubblico, sul target, no? Quindi sulla tipologia di persone che noi vogliamo andare a colpire, tra virgolette, cioè quelle a cui vogliamo vendere il nostro prodotto e servizio. Ma ci sono anche concorrenti, ci sono gli altri che appunto, come dicevamo noi, si rivolgono alla stessa clientela, propongono prodotti o servizi simili ai nostri o che soddisfano esigenze o desideri simili ai nostri. Quindi prima di tutto si deve partire da una bella analisi fatta bene. Ha sentito un famoso marketer che diceva che il marketing è composto dall'80% da analisi e forse è anche abbastanza vero, perché se si parte così alla cieca si rischia di farsi veramente del male, senza sapere su cosa stiamo investendo i nostri soldi, senza conoscere il mercato. La strategia di marketing, quindi una volta acquisiti i dati necessari, si elabora una strategia, si pensa a un modo con cui penetrare nel mercato, con cui anche differenziarsi dalla concorrenza, anche su quale piattaforma puntare, se puntare ovviamente sui social, per l'appunto si tratta di social media marketing in questo corso, ma ci sono anche altri canali di marketing online e offline, ad esempio la SEO, no? La famosa Search Engine Optimization, che fa sì che il tuo sito risulti primo, o fare primi su Google per risultati di ricerca, per una determinata keyword. Ci sono tanti altri mezzi. Poi comunque nella strategia, l'importante è partire sempre da una bella analisi, di quelli che sono i nostri punti di forza e punti di debolezza, e in base a quelli poi appunto si elabora tutta la strategia. Comunque farò anche delle lezioni, proprio uno sull'analisi e uno sulla strategia. E poi ci sono le tattiche, cioè il marketing operativo, cioè appunto nel fase strategica si scelgono i mezzi da usare e nella fase 3, quella operativa, si mettono in pratica. Quindi si lanciano le campagne di ads su Instagram, si fa la SEO, si apre un blog, si mette operativamente all'opera quello che si era studiato in fase strategica. E poi cosa si fa? Si analizza i risultati, si vede cosa è andato bene, cosa non è andato bene, cosa si può migliorare, cosa si può mantenere, cosa si può fermare, e quindi ricomincia il ciclo, incamieriamo nuovi dati e rincominciamo una nuova analisi, una nuova strategia e così via. Bene, adesso però sarebbe interessante dare una definizione di marketing. Esiste una definizione di marketing? Prima di parlarvene però, vorrei brevemente dirti quali sono i servizi che posso fare per te. Il servizio che propongo è quello di percorso di formazione personalizzata con affiancamento e incontri one to one, ovvero facciamo una serie di videochiamate in cui tu mi esponi il tuo caso alla tua piccola attività perché magari vorresti giustamente avere più clienti, più vendite, anche sfruttando i social, io ti guido appunto in un ciclo di consulenze. Questo secondo me è ideale per piccole attività e liberi professionisti. Ma puoi anche delegare a me direttamente alcuni di questi processi, infatti mi occupo anche di analisi di mercato, appunto di strategia di marketing, posso farla per te, posso creare per te il piano e il calendario editoriale per i social, posso crearti anche un brand semplice e creare proprio i contenuti per i tuoi social e anche mi occupo di gestire e lanciare le campagne di ads, le famose inserzioni sponsorizzate su Meta, ovvero su Facebook e Instagram, oppure puoi anche affidarmi tutte queste cose in un pacchetto unico in cui ti faccio una gestione completa dei social. Se ti interessano puoi contattarmi, puoi contattare il link che troverai in descrizione in cui ci facciamo una piccola chiamata conoscitiva di 30 minuti senza impegno in cui si parla, mi dici di cosa hai bisogno, quali sono i tuoi obiettivi e vediamo se ti posso aiutare. Tra l'altro se mi contatterai dopo aver visto questo video avrai anche un piccolo bonus, una piccola sorpresa, ma non ti voglio anticipare niente. Comunque trovi tutti i link in descrizione. Dicevamo, definizione di marketing. Esiste definizione di marketing? No, ne esistono molte. Non esiste una matematica? Ognuno ha dato un po' la sua. Ne leggo tre che ho trovato, che secondo me erano quelle più pertinenti, ma se cerchi su Google definizione di marketing tenessi una sfilza infinita. Ecco quelli che ho selezionato. Il marketing è comprendere molto bene il consumatore. A partire da questo aspetto si creano prodotti, servizi e informazioni orientate a risolvere i problemi, che un po' ricalco come abbiamo detto. Il marketing è una scienza che cerca di educare e coinvolgere i consumatori, cercando di soddisfare le sue necessità e allo stesso tempo posizionando il brand come fonte di fiducia. Quello di brand è un concetto importante a cui vorrei dedicare un'intera lezione. Il marketing alla marca è il nome, il prezzo, il ponte tra il prezzo pagato e il valore guadagnato. Non sono le vendite. Vediamo, io ti dico cosa ne penso io. Secondo me il marketing, anche se questo non è proprio una definizione, ma secondo me si può riassumere così. Il marketing è un processo, come abbiamo visto, è una cosa ciclica, una cosa dinamica, non è una cosa fissa, che ha come scopo finale la vendita, perché alla fine puoi fare tutto quello che vuoi, il brand come ti pare, avere le comunicazioni più fanteose del mondo, ma se non vendi, alla fine, avrai usato un sacco di soldi per niente, a meno che non si parli di marketing politico, ma quello è tutta un'altra cosa, la lasciamo stare. Qui ci si occupa di marketing finalizzato alla vendita. come ci si arriva alla vendita, con creazione di offerte che incontri la domanda, perché abbiamo visto prima, se non c'è domanda non funziona niente, non funziona il marketing, ma anche l'offerta deve essere appetibile, anche perché, come abbiamo detto, spesso il mercato è affollato, ci sono altri concorrenti. Quindi bisogna intanto creare ciò che si offre, ciò che si dà, non solo come lo si comunica, è importante, ma comunicandolo in modo efficace, comunicando in modo efficace il suo valore, e migliorando la percezione del brand sul mercato, nel tempo, perché questo è fondamentale nel lungo termine per acquisire fiducia, per acquisire credibilità e per crescere proprio come business. Infatti anche questo lo vedremo, penso, in un'altra lezione. Certo, se hai guardato questo video fino a qui, vuol dire che davvero sei interessato nel marketing e quindi ti voglio premiare facendoti un regalo. Se mi contatti su Instagram al mio account marketing per PMI, dove puoi anche seguirmi se ti va, se mi scrivi premio in privato, e saprò che hai visto questo video e quindi ti manderò in regalo un template che ho creato io con cui puoi creare da zero la tua strategia di social media marketing. Io ti consiglio di farlo subito perché è gratuito, template non per bantarmi, ma secondo me è fatto molto bene ed è solo per te che hai visto questo video. Prossimi passi, se ti piace questa mia idea di fare un corso completamente gratuito di social media marketing, se ti interessa questa idea e vuoi supportarmi, puoi farlo mettendo un mi piace a questo video, mi saresti un grande piacere, davvero. Ma anche iscrivendosi al canale e attivando la campanellina in modo da restare aggiornato sulle prossime lezioni che arriveranno. Puoi seguirmi su Instagram marketing per PMI e se sei un piccolo o medio imprenditore ti invito anche a unirti al mio gruppo Facebook che si chiama Piccoli e Medi Imprenditori Crescono, dove ci sono altri imprenditori, altri professionisti del marketing proprio come me. E quindi ti metto il link in descrizione e comunque se vuoi saperne di più in generale su questo corso, ti invito anche a vedere lo scorso video in cui faccio una prima introduzione su come funziona questo corso. Quindi noi ci vediamo fra una settimana con la seconda lezione del corso di social media marketing. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!